Grazie a tutti. Bene, buongiorno a tutti. Aspettiamo qualche secondino perché vedo che stanno entrando tutti i partecipanti. Ringrazio tutti per la presenza, che anche oggi sarà un incontro molto interessante, in continuità con quello che stiamo facendo come programma di incontri informativi. Abbiamo organizzato questo programma di incontri che si svilupperà sul neuromarketing, che si svilupperà in maniera però diversa dagli altri. Questa mattina sarà dedicata alla descrizione e alla conoscenza del neuromarketing. Per fare questo abbiamo con noi Andrea Ciceri di Science Catch e di Next Marketing Lab e Max Bancora di Comonext, che si occupa di tutto quello che riguarda Next Marketing Lab. Vi descriveranno poi loro tutti i dettagli anche rispetto a che cos'è non solo il neuromarketing, ma anche tutto quello che c'è a disposizione delle imprese nel Next Marketing Lab. I prossimi incontri però ci tengo a sottolinearvi che saranno incontri con una partecipazione molto limitata, infatti chi ha letto la newsletter ha potuto vedere che sono incontri riservati a massimo sei imprese per volta. Perché? Perché questi incontri saranno di orientamento rispetto ai bisogni specifici che voi porterete, e che manifesterete. Per cui sarà un vero e proprio laboratorio fatto e sviluppato sulla base dei bisogni concreti che voi manifesterete, che porterete come specifici delle vostre aziende. Per cui sarà un incontro confronto e orientativo rispetto anche alle scelte che voi potrete adottare rispetto alle strategie di marketing, per le quali il neuromarketing si rivela essere importantissimo e interessantissimo come conoscenza. Per cui vedete sotto le prossime date il primo di questi incontri laboratoriali sarà il 7 luglio, e poi continueremo con uno al mese fino a dicembre. Per cui vi invito insomma a iscrivervi. Non porto via ulteriore tempo a questo incontro perché insomma sarà interessantissimo farci guidare in questo percorso di conoscenza. Per cui chiedo a Max di cominciare a introdurci in questo mondo. Grazie Max. Grazie, grazie Tina. Grazie per l'opportunità che ci state dando. Ringrazio la Camera di Commercio di Como Elecco che ci permette di portarvi questa nuova disciplina, ma anche il laboratorio di marketing che ci consente di realizzare progetti interessanti all'interno dell'ecosistema di Como Next. Io sono Max Bancora, appunto sono un innovation manager di Como Next. Mi occupo di coordinare i progetti di innovazione che riguardano il digitale, per cui tutto ciò che non è sostanzialmente fisico e che coinvolge poi le aziende all'interno di Como Next e coordino queste attività per portare l'innovazione all'interno delle aziende. All'interno di Como Next abbiamo realizzato un laboratorio che cerca di risolvere tutte le problematiche legate al marketing utilizzando una tecnologia fantastica che è quella del neuromarketing di cui poi Andrea ci racconterà nel dettaglio di che cosa si tratta. Il primo tema è il perché. Perché adottare questa tecnologia all'interno di Como Next? Perché ovviamente abbiamo a che fare con tantissime nuove idee che provengono da start-up, ma anche nuove idee che provengono da aziende strutturate che sono già presenti sul mercato e che hanno bisogno di verificare l'efficacia di queste idee, di questi progetti, di queste innovazioni. Noi cerchiamo di andare a risolvere questi dubbi con il neuromarketing appunto, perché così limitiamo la possibilità che queste aziende sbaglino, che abbiano dei progetti, dei servizi, dei prodotti, che non siano in linea con le aspettative dei propri clienti e quindi che il mercato non risponda positivamente agli stimoli che vengono poi sottoposti. Capite bene che sia per una start-up che per un'azienda strutturata sbagliare meno è fondamentale per la start-up, per limitare lo spreco di risorse, così come per un'azienda strutturata, un'azienda strutturata ovviamente per mantenere il proprio business attivo sul mercato. Dove lo facciamo? Come vi dicevo all'interno di Como Next, della struttura abbiamo un ufficio dedicato per fare questo, un'area dove ci sono tre zone, una parte interattiva dove possiamo mettere di fronte agli utenti i prodotti realizzati dalle aziende e una parte invece dove possiamo mostrare tutto ciò che non è fisico fino ad arrivare a far discutere le persone tra di loro per far emergere ciò che realmente pensano dei prodotti che noi stiamo cercando di sottoporre. Un laboratorio che è gestito da ScienceCatch e Andrea appunto è il CEO di ScienceCatch di cui poi sentiremo parlare più nel dettaglio rispetto al neuromarketing. Neuromarketing che è una tecnologia appunto innovativa che ci consente di cogliere effettivamente ciò che gli utenti, i clienti pensano di fronte a certi stimoli. Stimoli che possono essere quelli di nuovi prodotti, di un'interfaccia, di un servizio innovativo e stimoli che fanno reagire questi utenti di fronte ai prodotti e che spesso le persone, i clienti che portiamo di fronte a questi stimoli difficilmente riescono poi a comunicare ciò che effettivamente provano. Per cui qui trovate una serie di tecnologie che il neuromarketing utilizza per far emergere effettivamente ciò che questi utenti, questi clienti pensano. Per cui abbiamo un eye tracker per esempio per cercare di cogliere dove lo sguardo si posa e per capire se l'attenzione effettivamente è focalizzata sul punto che noi vogliamo che il cliente, l'utente cerchi di focalizzare, piuttosto che la capacità di interpretare i micro movimenti facciali di fronte a una vetrina, di fronte a uno stimolo per cogliere ciò che è implicito nella reazione di questo utente, di questo cliente di fronte agli stimoli che stiamo sottoponendo loro. Gli ambiti applicativi sono veramente tanti, per cui possiamo cercare di capire quali sono gli stimoli che gli utenti trovano all'interno di un negozio per migliorare l'apparenza, quindi per migliorare le vetrine, per migliorare come sono comunicate le comunicazioni all'interno dello store, ma anche cercare di migliorare la capacità che lo store abbia di comunicare il brand, di portare delle comunicazioni più efficaci rispetto a quelle che normalmente non avvengano, fino ad arrivare a test di prodotto concreti, quindi mettendo di fronte l'utente a un prodotto, facendo emergere le reazioni vere, contestuali rispetto al prodotto stesso. Ovviamente possiamo andare ad analizzare delle reazioni di fronte all'interfaccia, ai siti, quindi capire se i siti sono stati costruiti con tutti i crismi, se quei bottoni sono stati posti bene all'interno dell'interfaccia che è stata creata, fino ad arrivare alle normali ricerche di mercato qualitative, quindi ai questionari che fanno emergere le opinioni dei clienti in maniera più o meno tradizionale. Non pensate che questo tipo di tecnologie siano sostanzialmente disponibili solo per le grandi aziende, per cui all'interno di questi settori che vedete un po' come i settori a cui noi ci rivolgiamo, ci sono diverse realtà piccole che grazie a queste tecnologie sono riuscite ad avvicinarsi a delle informazioni che prima erano riservate veramente alle aziende di grandi dimensioni, per cui solo le aziende di grandi dimensioni avevano la possibilità di ottenere informazioni rispetto a tutti quegli ambiti applicativi che abbiamo visto prima, per cui un'analisi di un sito può essere fatta con le tecnologie del neuromarketing ha dei costi molto accessibili rispetto al passato, per cui pensate che per esempio Amazon è da vent'anni che utilizza queste tecnologie per capire come disporre i bottoni all'interno del carrello, piuttosto che a come presentare i prodotti, quindi da vent'anni Amazon utilizza la capacità di cogliere dove lo sguardo si posa sulle interfacce per migliorarle e per renderle molto più utili. Quello che dico spesso è che noi quotidianamente se volessimo lanciare un nuovo sito ci dobbiamo confrontare con quelle realtà, quindi dobbiamo entrare in concorrenza con Amazon e quindi questi strumenti ci permettono di andare direttamente in concorrenza con Amazon perché possiamo costruire con il neuromarketing, con queste tecnologie, delle interfacce molto competitive che ci permettono di essere sul mercato e di competere con questi colossi che da tempo utilizzano questo tipo di servizi. Questi sono i settori a cui ci rivolgiamo nello specifico ma ci sono ovviamente altre aree su cui stiamo lavorando, per esempio il food dove abbiamo aiutato delle aziende per cogliere l'efficacia della tecnologia all'interno del tracciamento delle filiere, quindi veramente spaziamo all'interno del mercato dell'innovazione a 360 gradi, possiamo intervenire laddove c'è la necessità di capire se quello che stiamo costruendo è efficace alle basi su cui poi andare a costruire tutta la tecnologia, tutta la strategia. Un esempio che spesso facciamo è quello di un'azienda che è entrata all'interno di Comonext e ci ha chiesto di verificare l'efficacia di tutta la strategia che stavamo costruendo insieme a loro, partendo dal sito. Quindi qui vedete un esempio di come l'iTracker funzioni rispetto a un'interfaccia web, quindi mettendo l'utente di fronte a un sito noi siamo in grado di verificare dove l'utente pone lo sguardo, dove focalizza l'attenzione e quindi capire se ci sono delle migliorie possibili rispetto a quello che stiamo realizzando. Qui vedete una pagina e questi cerchi sono i punti in cui l'utente sta focalizzando l'attenzione, per cui se noi volessimo comunicare la possibilità di personalizzare un capo, stiamo ottenendo un ottimo risultato perché come potete vedere l'utente in questo caso ha posto lo sguardo per tanto tempo in questa zona e poi si è mosso con quelle modalità che potete vedere emergono rispetto a quei pallini viola. E questo è un tipo di intervento che abbiamo realizzato per questa azienda che produce dei capi componibili e che poi abbiamo portato ad analizzare anche all'interno del punto vendita. Quindi passando dal sito alla fase di store dove gli utenti sono riusciti ad interagire con i prodotti e sempre con la stessa tecnologia abbiamo cercato di cogliere se lo sguardo dell'utente e del cliente è focalizzato sui punti che l'azienda che tenete unico in questo caso aveva in mente di far emergere come tema di comunicazione. E da ultimo lo store con l'analisi di come il cliente interagisce con il prodotto sul manichino. Ovviamente questo è un esempio di tecnologia applicata ad un prodotto della moda ma come per la moda lo stesso si può fare per tutto ciò che riguarda la proposizione di un'azienda sia essa nel mercato del business to business sia essa nel mercato come questo del business to consumer. Detto questo come un progetto di innovazione può essere realizzato all'interno dell'ecosistema di Comonext per cui partendo dalle analisi condotte dal Next Marketing Lab noi come ho detto prima mettiamo le basi su cui costruire tutta la strategia di comunicazione che può essere realizzata. Strategia che poi può prendere le competenze presenti all'interno dell'ecosistema di Comonext per andare a realizzare l'app per andare a realizzare banalmente il sito, per costruire delle strategie di comunicazione che vadano a cogliere anche le opportunità all'interno dei canali di social network fino ad arrivare all'analisi della user experience e della user interface come si diceva con le tecnologie prodotte all'interno del Next Marketing Lab. Un caso concreto vicino se vogliamo al mondo delle PMI è quello che abbiamo realizzato per Aderma Locatelli dove la richiesta era quella di internazionalizzare il business attraverso un'analisi di quello che stavano conducendo in termini di comunicazione. Ovviamente per le aziende in questa fase avere una comunicazione digitale supera gli ostacoli dell'impossibilità di muoversi, dell'impossibilità di andare a toccare con mano il cliente come si faceva prima. Lo stavamo dicendo pochi giorni fa in un altro webinar, a noi piace tanto andare a cena con i clienti, in questo momento non si può più fare, quindi tutto ciò che viene realizzato a livello digitale colma questo gap che ci impedisce di andare a raggiungere il cliente, per cui con Aderma Locatelli abbiamo realizzato un progetto di digitalizzazione che è partito dall'analisi del sito per verificare i contenuti, passando dalla fase di strategia social, quindi implementando tutto ciò che viene comunicato dall'azienda in termini di presenza su LinkedIn, perché ovviamente questo era il tema a loro interessante, in quanto loro costruiscono dei profili che vedete qui ben realizzati, di nuovo attraverso un'altra competenza presente all'interno di Comunex, quindi già con queste tre immagini abbiamo toccato tre competenze diverse che noi abbiamo coordinato per realizzare questo progetto. Il primo per la realizzazione del sito, il secondo per la gestione dei social network e il terzo per la realizzazione delle renderizzazioni di questi prodotti. Sono dei canali che vengono introdotti in fase di costruzione in grattacieli, tipicamente come nel caso del Bosco Verticale che vedete esposto sulla home page di Aderma Locatelli e che permette poi di far scorrere all'interno varie strutture specifiche per il mantenimento della della struttura, fino ad arrivare alla creazione di un video istituzionale che ha ringiovanito la presenza di Aderma Locatelli sul web. Quindi di nuovo la mancanza della possibilità di andare a fiere di settore è stata colmata con la realizzazione in questo caso di un video molto efficace che ha raccontato la competenza di Aderma nel costruire un prodotto mettendo in risalto la presenza dell'imprenditore e le tecnologie che vengono utilizzate, cosa che normalmente sarebbero state raccontate magari appunto direttamente in fiera ma che in questa fase capite bene che è un po' più difficile da realizzare. Da ultimo una richiesta dell'azienda era quella di ovviamente diventare competitiva a livello di comunicazione digitale e quindi la possibilità di creare nuove opportunità di vendita. In questo caso abbiamo lavorato con un'altra competenza sul posizionamento all'interno di Google e siamo riusciti a portare Aderma Locatelli quasi al top dell'elenco dei risultati di Google mettendola direttamente in concorrenza con ILTI che è un colosso di questo tipo di settore ed era uno degli obiettivi di Aderma arrivare fin lì. Questo è un po' il panorama che grazie a quello che si diceva prima quindi partendo dalla costruzione di una base solida di una strategia analizzata e confermata da ciò che emerge all'interno del laboratorio di marketing noi andiamo a costruire una strategia completa prendendo in questo caso alcune delle competenze. Queste sono le competenze che abbiamo preso per realizzare questo progetto e che ci ha consentito di portare l'esperienza tecnica del cliente fino alla digitalizzazione quindi a un processo di internazionalizzazione con il digitale su un mercato nuovo per loro e che sta conseguendo ovviamente tantissimi risultati grazie a una struttura ben realizzata con basi solide con un'idea concreta. Questo è il tema di cui parleremo sostanzialmente oggi con Andrea che ci racconterà come il neuromarketing permetta di realizzare questo tipo di progetti quindi ci presenterà il modo in cui praticamente è possibile arrivare a toccare con mano la realizzazione concreta di strategie di comunicazione come queste di cui abbiamo parlato. La struttura del webinar prevede la possibilità ovviamente di porci delle domande mentre parliamo. Vi chiedo gentilmente di farlo attraverso l'area delle domande e delle risposte o question and answer che trovate all'interno di Zoom e poi noi cercheremo appunto di rispondere o in corsa o al termine del webinar insieme ad Andrea. Lascio ora la parola ad Andrea che ci racconterà tutto del neuromarketing scendendo veramente in profondità rispetto a questo affascinante tema. Te Andrea grazie. Grazie a te Max. Buongiorno a tutti e benvenuti. Sono Andrea Ciceri, sono il fondatore di Sense Catch che è questa società insediata in Comunex che ha l'obiettivo appunto di andare ad applicare la ricerca di neuromarketing in qualsiasi fondamentalmente come già anticipava Max e Tina in qualsiasi ambito, settore appunto del marketing e della comunicazione ma in realtà possiamo spaziare anche al di fuori di questi ambiti che vi ho appena elencato. per essere più chiari noi diciamo sempre che di fatto quello che possiamo andare a fare è applicare la metodologia in qualsiasi ambito in cui di fatto è importante analizzare un comportamento. Ogni volta che c'è un comportamento il nostro obiettivo come azienda è quello di capire cosa c'è dietro questo comportamento beh appunto diventa fondamentale utilizzare un metodo che permetta realmente di andare a concentrarsi su questa dimensione che come potete ben immaginare è qualcosa di molto emotivo, molto inconsapevole, molto automatica e per questo motivo difficilmente possiamo cogliere questa dimensione andando a chiedere direttamente al nostro consumatore al nostro potenziale consumatore cosa pensi del mio prodotto, cosa pensi del mio servizio. Ma arriveremo a capire questo appunto in questo percorso che faremo insieme in questa mattinata e poi con chi vorrà sui prossimi incontri. Vado a condividere la slide, come diceva Max, teniamo l'intervento molto interattivo per cui ci terrei che partecipate in modo attivo a quello che andremo a fare tra poco scrivendo direttamente in chat o se vi è più comodo potete anche aprire il microfono e poi richiuderlo però subito dopo così da non disturbare la presentazione. Allora, proviamo a condividere. Mi permetto di dire quello che ha appena detto Andrea, quindi rimanete ben attivi perché spesso vi sorprendiamo, soprattutto Andrea vi sorprenderà con le richieste interattive e quindi di partecipare, ma proprio per essere più efficace la vostra interazione, la vostra partecipazione è indispensabile. Grazie. Grazie. Ok. Allora, dovreste vederla. Ditemi se funziona tutto quanto. Perfetto. Vedete? Ok. Allora, quindi iniziamo questo percorso un po' gettando le basi che vanno poi a spiegare il motivo per cui oggi si va a parlare di neuromarketing e il motivo per cui aziende più più internazionali o comunque più attente alle tematiche della ricerca, metodologia che appunto già viene utilizzata, come diceva prima Max. Allora, quindi solitamente quello da cui noi iniziamo è appunto chiedere, no? Chiederci quanto dei nostri processi decisionali che agiamo quotidianamente avvengono su spinta emotiva o su spinta razionale. E partiamo sempre da questa slide. Allora, questa è una slide che ci descrive come solitamente il processo decisionali dovrebbe avvenire. Allora, l'economia classica, quindi di qualche tempo fa, diceva che ogni volta che un consumatore deve risolvere un problema, parte dal riconoscere il tipo di problema che ha, dal ricercare tutte le informazioni che trova, che ha la possibilità di trovare per risolvere quel problema, dal valutare tutte queste alternative, quindi tutte queste informazioni e dal ponderare, quindi dal dare un peso a ciascuna di queste alternative per poi arrivare a scegliere quella che si dice essere quella che ottimizza la scelta, quella che massimizza l'utilità attesa. Quindi sostanzialmente quella che gli permette al nostro consumatore di ottenere la miglior risposta possibile alla problema che lui aveva. Se adesso noi pensiamo a questo schema e vi chiedessi quante delle decisioni che compiamo quotidianamente seguono questo percorso decisionale e quante invece non lo seguono. Secondo voi sono più le decisioni che compiamo ogni giorno che seguono questo percorso o quelle che invece non lo seguono. Probabilmente se volete iniziare a interagire fate pure, tanto vediamo la chat per cui se volete ok. Federica dice quelle che lo seguono, quindi Federica dice nella quotidianità io mediamente seguo più questo percorso decisionale che non seguirlo. Un'altra azienda dice più quelli che non lo seguono. Alberto dice sono più quelli che non lo seguono. Ok, quelli che non lo seguono. E dice un'altra persona seguo questo percorso. Facendo un rapido calcolo mi sembra che sia più a favore del non seguo questo percorso decisionale. In realtà effettivamente è così. In realtà effettivamente questo percorso decisionale è bellissimo, funziona benissimo sulla carta, rassicura tutte le aziende, rassicura tutti gli imprenditori, tutte le persone che devono decidere come promuovere proprio il loro prodotto o servizio, ma in realtà così non è. Perché rassicura questa cosa e perché tendiamo a pensare che agiamo in questo modo? Rassicura perché una volta che io azienda ho capito come il mio consumatore cerca il mio prodotto, la mia categoria di prodotto, la mia categoria di servizio, quello che devo fare è semplicemente, una volta fatta questa fase, comunicargli le informazioni che lui cerca così da favorire la vendita del mio prodotto o servizio. In realtà così non è. E perché tendiamo a dire sì, io seguo questo percorso decisionale? Perché questo percorso decisionale in realtà non funziona nella quotidianità perché ci sono delle dimensioni che sono automatiche, che sono inconsapevoli, che ci, e lo vedremo adesso nella pratica, che ci deviano da questo percorso decisionale. Questo era il percorso decisionale razionale in cui il consumatore, in cui il decisore, quindi tutti noi, eravamo considerati come appunto persone perfettamente razionali. Vado e scelgo tutte le alternative e scelgo l'opzione migliore in assoluto. Così in realtà non funzioniamo, così funziona un computer. Un computer usa degli algoritmi, valuta tutte le informazioni, cerca tutte le informazioni, valuta tutte le alternative e sceglie l'opzione migliore in assoluto. Questo lo fa il computer, non lo facciamo noi. Anche perché immaginatevi quante decisioni prendete ogni giorno e che casino sarebbe se tutte queste decisioni devono seguire necessariamente questo percorso. Praticamente vivremo la giornata a capire come risolvere il nostro problema. Quindi è impossibile fare questa cosa. Lo so che chi diceva io seguo questo percorso non mi crede, però in realtà funzioniamo in questo modo. E dico di più, anche nelle situazioni in cui il problema, la dimensione del mio problema percepito è una dimensione in cui c'è un rischio percepito magari più alto che semplicemente di prendere un pacchetto di chewing. Quindi stiamo comprando una macchina. Quindi c'è una dimensione economica, c'è una dimensione sociale, c'è una dimensione di gratificazione personale e queste dimensioni in realtà per cui queste ultime due, la gratificazione sociale, la dimensione un po' più quindi economica e scusate emotiva, vanno a far sì che andiamo a comprare magari una macchina con un costo superiore rispetto a una macchina con un costo inferiore che ci avrebbe potuto permettere di ottenere in realtà lo stesso risultato. E cos'è che succede quando compriamo una macchina che ci rendiamo poi conto avere un costo superiore rispetto a quello che avremmo potuto risparmiare? Quello che succede è ci sentiamo bene o ci sentiamo male? Quando realizziamo che abbiamo speso dei soldi in più, qual è la sensazione sulla macchina o comunque su un prodotto in cui c'è una dimensione economica abbastanza importante o importante e poi alla fine dell'acquisto diciamo sì ma cavolo però ho speso dei soldi in più e li avrei potuti anche risparmiare. Cos'è che succede? Vi sentite bene o vi sentite male? Federica dice dipende dal tipo di consumatore che prende la decisione, c'è quindi quello più razionale c'è quello più emotivo e quindi dice dipende. Ok, quindi un po' legata alla dimensione diciamo personale di comportamento può esserci questa dimensione. Quindi rispondendo alla domanda è che noi ci sentiamo male, no? Ci sentiamo male e cos'è che facciamo? Giustifichiamo in modo razionale, mi sento in colpa, dice quest'altra persona e non so se sarei soddisfatta di aver fatto quello che ho fatto può dipendere da quanto è gratificante l'acquisto. Ok, l'acquisto è gratificante, no? Quindi sto comprando una macchina perché mi sto gratificando, quindi sto gratificando a me stesso, quindi la dimensione diciamo di gratificazione che si diceva prima. però detto questo comunque c'è sempre un po' il rimpianto, no? E quindi quello che succede cos'è? Che una volta che abbiamo realizzato, che abbiamo speso dei soldi in più, in realtà quello che facciamo è trovare delle giustificazioni a ciò che in realtà non è stato razionale, non è stato il processo razionale, no? Diciamo, ma sì, ho speso dei soldi in più, ho comprato quella macchina che mi è costata 2-3 mila euro in più perché mi permette di risparmare carburante, perché mi permetterà di rivenderla più in là nel tempo con un valore più superiore, eccetera, eccetera. Sono tutte giustificazioni a un processo che in realtà abbiamo realizzato essere stato non razionale. quindi il nostro obiettivo è sempre quello di riportarci, di volerci considerare come decisori razionali. Ma pensate anche alle decisioni in azienda. Quanto la dimensione relazionale, quindi sto decidendo con un mio collega con cui mi trovo bene o con cui mi trovo male, quanto questa relazione possa influenzare poi la decisione finale. In azienda, ok? Quindi in un contesto in cui io dovrei agire necessariamente in modo razionale. Ok? Quindi, per arrivare al punto, in realtà è che non siamo perfettamente razionali. Ci piace crederci perfettamente razionali, ma non lo siamo. E non lo possiamo essere. Quindi cos'è che si dice? Si dice che siamo dei razionalizzatori. Siamo delle persone, dei decisori con una razionalità limitata. Quindi si dice sempre che scegliamo l'opzione che ci permette di prendere una decisione in modo soddisfacente. In modo, ma sì, ho preso una decisione, va bene così. Ok? Quindi non prendiamo la decisione ottimale. E lo diceva Simon. Ok? Quindi Simon dice che in realtà il nostro decisore ha una razionalità limitata. Qual è il motivo per cui abbiamo una razionalità limitata? Adesso lo vediamo. Allora, facciamo con tutti voi questo esercizio. Allora, siamo durante i saldi, ok? E stiamo comprando un telefonino da 60 euro. Il vostro amico vi chiama e vi dice che a 5 minuti di strada potete trovare lo stesso identico telefonino a 50 euro. E cosa fareste? Scrivete pure in chat. Quindi chi compra a 60 e chi compra a 50. Quindi abbiamo tempo, siamo solo 5 minuti di strada, possiamo andarci in macchina, possiamo andarci a piedi. È semplicemente una decisione sul risparmiare o sullo spendere. Ok, Alberto dice ok per 50. Valuto la situazione Federica, la mia scelta ottimale potrebbe corrispondere con la soddisfacente viceversa. Vado a comprare a 50, compro a 50. Se conosco il negozio in cui sono spendo 60, compro 50, 50 e 60. Ok, allora la maggior parte va per risparmiare per comprarlo a 50. In tre persone, se non lo ricordo male, a 60 euro. Ok, proviamo a cambiare la situazione. E adesso state invece comprando un televisore da 1.170 euro. Il vostro amico sempre vi chiama e vi dice guarda che puoi comprare lo stesso identico televisore che puoi trovare a 5 minuti di strada a 1.160 euro. Cosa fareste? Federica dice 1.170 euro. Marianna 1.170 euro. 1.170 euro. Erika dice per 10 euro di differenza resta 1.170 euro. Stefano vado a valutare. Compro 1.170. Ok, 1.170. Mi informo se assistenza e consulenza predecido. 1.170. Ok, allora ha vinto il 1.170. Di 1.160 forse l'ha intradetto, diciamo così, una persona. Allora, secondo voi, 1.170, 1.170. Ok, secondo voi cos'è che è successo? Cos'è che è cambiato e cos'è che è rimasto invariato? Cos'è che è rimasto invariato e cos'è che è cambiato? Ok, cambia la spesa. Ok. Allora, siete concordi nel sostenere che la situazione a livello razionale è esattamente la stessa? Oppure no? Ok. Sì, 10 euro sono sempre 10 euro. Federica dice di no. Sì, sì, no. Allora, la risposta è sì, non è cambiato assolutamente niente. Se fossimo dei computer quello che avremmo fatto è decidere in entrambe le situazioni per risparmiare o per spendere questi 10 euro in più. Però in entrambe le situazioni avremmo fatto la stessa cosa. Ok? Perché di fatto cos'è che non cambia? Sono sempre 10 euro in più o in meno che vai a risparmiare o a spendere in più. Quello che cambia e che ci ha fregato e che ci frega quotidianamente, ed è questo il vero casino del perché non possiamo essere razionali anche se ci piace esserlo, è proprio il contesto, lo scenario. Il modo in cui io azienda, io grande distribuzione, io retail, ti vado a proporre questa cosa. Ok? Quindi cambia lo scenario. Cambia in particolar modo in questo caso il contesto del prezzo. Ok? Quindi il prezzo più o meno elevato ti fa percepire sempre quegli stessi 10 euro in modo completamente differente. 10 euro nella scenario A pesano molto di più dei 10 euro nello scenario B. Ok? Nello scenario B dici, ma sì per 10 euro, lo prendo qua e finisce il discorso. Nello scenario A dici, vabbè, 10 euro sui 60 euro hanno già un senso e quindi vado, tendenzialmente magari vado a risparmiare perché ho il tempo, quindi perché spendere dei soldi in più. Quindi stiamo iniziando a introdurre il concetto delle euristiche. Ok? Le euristiche cosa sono? Sono dei processi cognitivi, delle scorciatoie cognitive che mettiamo in atto in modo inconsapevole e automatico ogni volta che dobbiamo prendere una decisione. Pensate che ce ne sono più di 100 di tipologie di euristiche, quindi pensate quanto questa cosa ci frega. È questo un motivo per cui non possiamo essere razionale. Facciamo quest'altro esercizio insieme. Dobbiamo, stiamo per fare finalmente la nostra vacanza e dobbiamo comprare una macchina fotografica. Abbiamo due opzioni. La prima opzione costa 240 euro, la seconda opzione costa 470 euro. La seconda macchina ha delle caratteristiche di performance, di qualità, di risoluzione migliore, per cui fa delle foto migliori. Secondo voi, o meglio, quale tra queste due prendereste? Chi la prima, chi la seconda? Seconda, seconda, seconda. Prima. Erika dice io sono appassionata e prenderei la seconda. Ok. Gianluca, se posso permettermelo, la seconda. Ok. Va bene. Quanto vi sentite sicuri? Quanto vi sentite a vostro agio nel dover decidere tra queste due opzioni? Soprattutto magari a chi di fotografia se ne intende poco. La deve prendere perché deve fare il viaggio, ma non capisce bene cosa c'è dentro questa macchina. Vi sentite tranquilli? Vi sentite sicuri di aver scelto la macchina che fa per voi? Oppure c'è un po' quella sensazione di dire, boh, chissà se ho preso quella giusta. Dipende dalle info, ok. Ma le info siamo sicuri che siamo capaci di decodificarle, di leggere, di interpretarle in modo corretto, soprattutto se non siamo professionisti. La prendo su Amazon e la rendo a fine vacanza. Ok. Mi informo. Allora, adesso abbiamo quest'altra possibilità. Questo produttore Panasonic ci dà anche questa terza possibilità, che costa 800 euro. Cosa fareste? Che ovviamente ha delle caratteristiche ancora migliori. Cosa fareste? Troppo costosa qual è la terza, Alberto, immagino. Dania dice seconda. Rende più appetibile la seconda. Mi rendo possibilmente sulla seconda. Visto che sono un appassionato, valuterei di prendere anche quella più costosa. Quindi già, ok. Allora, cos'è che sta succedendo? Sta succedendo che qualcuno di voi sta iniziando a cambiare idea. Quindi, chi prima magari la prendeva a 2,39, adesso la vuole prendere a 4,69. E chi prima diceva 4,69 e sono un professionista, adesso la vuole prendere a 7,99. Cos'è che è successo? Cos'è che ho fatto come azienda? In quale delle due situazioni vi sentite più a vostro agio come consumatori? Questa con due opzioni o questa con tre opzioni? Come azienda quindi ho aumentato l'offerta, vi sentite più a vostro agio? Con due è più facile, siamo sicuri? O con tre opzioni? Che dice Erika è più facile. Allora, in realtà, quando abbiamo tre opzioni, quello che l'azienda sta facendo sta da un lato aumentandosi la sua offerta. Quindi sta parlando anche dei target differenti. Tra di voi c'è qualcuno che è il professionista e dice vado su quella più costosa perché so cosa sto comprando. Più costa e più effettivamente c'è qualità e so come usare questa qualità, come sfruttarla e per cui mi oriento sul premio. Qualcuno di voi dice ma sì, ma devo fare un viaggio, non so bene come funziona questo oggetto. Prendo quella del 239 e finisce il discorso. In realtà quindi sto da un lato parlando a dei target differenti, quindi anche dei target differenti non solo per competenza ma anche per potere di spesa. Ok? Poi in realtà sto anche andando a semplificare quella che è proprio la decisione del mio consumatore. Quando ho tre opzioni, quando do tre opzioni, di fatto quello che faccio è che sto andando a creare la situazione che sta in mezzo. Ok? Il prodotto che sta in mezzo e se sta in mezzo vuol dire che non è né brutto né troppo cattivo, diciamo così, né troppo buono. Quindi è la situazione che sta in mezzo. E quindi è la situazione che soprattutto a un consumatore che non sa bene cosa sta comprando, cos'è che fa? È quella la situazione che ha l'obiettivo di rassicurare, ha l'obiettivo di facilitare l'acquisto. Quindi in realtà sto facendo un po' di cose diverse. Già ne abbiamo dette due. E la terza qual è che sto aumentando di fatto il mio potere, la mia spesa media del venduto. Quello che succede cos'è? È che solitamente quando do due opzioni, il 50% del mercato va da una parte e il 50% va dall'altra. Quando ne do tre, più o meno ho un 20-25% che va sulle opzioni meno care. L'opzione meno care è l'opzione più costosa e un 50-55-60% che mi rimane sulla situazione di mezzo. E lato vendita appunto ho aumentato il mio prezzo medio da 350 a 595 euro. Ok? Quindi in realtà vedete come già semplicemente capire come vendere un mio prodotto o un mio servizio possa influenzare di fatto una serie di cose. Badate bene anche già semplicemente senza guardare la profittabilità, ma anche semplicemente guardare al sto rispondendo al mio consumatore, gli sto semplificando la vita. È un obiettivo oggi giorno fondamentale perché il consumatore oggi è sempre più informato, è sempre più distratto, ha sempre meno tempo per cercare un prodotto, per dedicare attenzione a un prodotto. E per cui più siamo in grado di semplificare la sua decisione, più aumenteremo la nostra possibilità di vendere questo prodotto o questo servizio. Se ci pensate, gli abbonamenti ad esempio solitamente mai vi danno due opzioni, ve ne danno sempre tre, quattro, cinque, non di più. E quindi ve lo chiedo, quante opzioni secondo voi occorre, come strategia occorre dare al vostro consumatore, sia se operate nel B2B, quindi se vendete ad altre aziende, ma anche se vendete al consumatore finale. Qual è la situazione, l'offerta, il portafoglio prodotti, quindi l'offerta migliore come alternative che potete offrire al vostro consumatore per semplificargli la vita? Matilde dice tre. Altri? Più di tre, più di quattro, più di cinque, dieci. Noi attualmente abbiamo tre alternative, ok. Perché non dargene tante, così abbiamo detto, più alternative le do, più vado incontro a quello che il mio consumatore sta cercando e da qualche parte ci dovrà pure cadere dentro. Da qualche parte riuscirò a parlare bene. Ok, l'area dice crea confusione, sarebbe più difficile scegliere, noi ne abbiamo tre più una su misura, ok. Potrebbe andare in confusione, confusione e perdere la vendita. Esattamente questo. Allora, più opzioni do al mio consumatore, in realtà più sto andando a complicare la sua decisione. Questa cosa è stata proprio verificata anche a livello scientifico. Questi ricercatori hanno messo un gruppo di persone, un gruppo di consumatori davanti a uno scaffale di marmellate con 24 gusti. Ok, quindi immaginatevi di essere davanti allo scaffale con 24 gusti. È un po' quello che succede davanti allo scaffale dei vini. L'effetto qual è? Oddio, adesso cos'è che prendo? Esattamente questo. Quindi con 24 gusti, soltanto il 3% di quei consumatori, di quelle persone, sceglieva una marmellata. E quindi cos'è che hanno fatto? Iniziamo a diminuire piano piano il numero di possibilità, i gusti che stiamo andando ad offrire al nostro decisore. E sono arrivati a dire che con 6 gusti a verificare, hanno fatto una ricerca scientifica, hanno verificato che con 6 gusti dal 3% sono passati al 30% di persone che hanno preso il prodotto, che hanno scelto il prodotto. Ok, quindi la risposta corretta è appunto di sicuro non più di 6, ma in realtà non andiamo oltre le 3-4 opzioni. Ok, oltre questo numero di opzioni, quello che succede è che andiamo nel cosiddetto, generiamo il cosiddetto paradosso di troppa scelta. Quindi noi azienda male siamo tranquilli perché diciamo, cavolo, gli sto dando 24 possibilità, in qualche modo una di queste sarà adatta a lui. In realtà no, in realtà stiamo bloccando la sua decisione. Il cervello del consumatore rifugge tutte quelle dimensioni, tutte quelle situazioni in cui il rischio percepito è elevato. Se c'è il rischio non decide. Quindi quando diamo troppe opzioni non decide, non stiamo andando a semplificare la vita del nostro decisore. Ok, quindi questo è semplicemente per ragionare sulle numeriche di opzioni. Secondo voi, quale preferireste tra questi due tagli di carne? Quella magra per il 75 o grassa per il 25? Ok. Qualcuno di voi dice la prima, anche se sono i denti, che sono uguali, la prima è lo stesso, ma cambia magra il 75. Ok, perché ci comunicano sempre che la carne è magra per il 75 e non ci dicono mai che è grassa per il 25? Perché grasso è brutto. Esattamente come dice qualcuno di voi. Quindi pensate già al termine, il copy si dice, quindi quando scriviamo un testo, quando scriviamo magari anche un messaggio pubblicitario, quanto è importante ponderare le parole, decidere che parole usare. Ogni parole ha un'accezione, ogni parola evoca una dimensione, evoca un immaginario, mi porta a vedere quella cosa, a immaginare quella situazione. Quindi questo è un altro esempio di come in realtà posso dire la stessa identica cosa, in due modi diversi e ottenere risultati diversi. Ok. Anche se in realtà stiamo dicendo esattamente la stessa cosa. Questo ci porta un po' a riflettere su come il modo in cui ti sto, siamo sempre all'interno di una teoristica. Ok. Che è sempre il modo, il contesto, il frame, si dice la cornice, in cui ti sto presentando la decisione, in cui ti sto mettendo, in cui sto generando la situazione in cui tu dovrai decidere. E come questa situazione possa influenzare la tua decisione finale. È un'euristica, è l'effetto framing, l'effetto cornice. E l'abbiamo visto in diverse situazioni. Ripeto, ce ne sono più di 100 di euristiche diverse. E il motivo per cui il carrello della spesa diventa sempre più grande è esattamente questo. Più grande è il carrello, più piccola sembra la spesa che hai messo in quel carrello, per cui ti senti quasi, non dico in colpa, ma comunque ti senti portato a mettere sempre più spesa, per cercare di riempirlo. Facciamo questo esercizio insieme. Allora, secondo voi, chi uccide tra questi animali più persone all'anno? Il cane, la lumaca d'acqua dolce o lo squalo? Cane, 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 cane. Altre? Lo squalo no? Ok, tutti quanti sono concordi nel ritenere il cane l'animale più pericoloso. Prima di adesso, pensavate allo stesso modo? Prima di adesso, a quale tra questi animali pensavate che fosse più pericoloso? Ok, pensavate allo squalo. Perché secondo voi lo squalo è percepito... Non conosco la lumaca, ok? E hanno una lumaca verenosa. Perché secondo voi lo squalo è percepito come più pericoloso? Quindi c'è il film. Il film. Allora, il motivo del perché lo squalo è percepito come più pericoloso è proprio perché ce lo presentano così. È proprio perché lo squalo è percepito, è associato al film, quindi alla macchia di sangue nell'oceano, è percepito al colore rosso, è associato ai denti, è associato a quell'immaginario lì, quindi un immaginario di estremo pericolo. Ed è questo il motivo per cui lo squalo è percepito come più pericoloso. Il motivo dietro questa cosa qua, dietro questa percezione, è che lo squalo, rispetto alle altre due situazioni, è associato appunto a questa immagine. E questa immagine è in tutti noi più sedimentata a livello di mente. Tutti noi sappiamo, riconduciamo immediatamente la parola squalo a quell'immaginario lì. E per questo motivo è un'informazione molto più disponibile nella nostra testa rispetto ad altre informazioni. Perché? Perché c'è una dimensione emotiva più forte su questo immaginario. Quindi cos'è che stiamo iniziando a dire? Stiamo iniziando a dire che l'emozione, quindi tutto ciò che è informazione emotiva, tutto ciò che è etichettato con emotività, è tutto ciò che viene favorito dal nostro cervello a livello di memorizzazione. E quindi è per questo motivo che è immediatamente più accessibile questa informazione rispetto ad altre informazioni meno emotive e per questo che lo squalo ha questa dimensione percepita come più pericolosa. Quindi tutte le informazioni più emotive vengono sedimentate con più facilità al nostro cervello e si ha quindi accesso più rapido a queste informazioni emotive. È per questo che lo squalo è percepito come più pericoloso. In realtà lo squalo uccide 6 persone, la rumaca d'acqua dolce 4400 e il cane 17400. Fossimo stati dei computer avremmo detto il cane. Fossimo stati al di fuori di questo contesto in cui ormai avete capito qual è il mio obiettivo, avreste pensato allo squalo e non al cane. In realtà il computer cos'è che avrebbe fatto? Il decisore razionale cos'è che avrebbe fatto? Avrebbe detto ok, ma quante possibilità ho di incontrare nella mia vita uno squalo, una rumaca d'acqua dolce o un cane, molte di più il cane. Il cane è in molte famiglie, quindi c'è molte più possibilità di essere morso, ucciso da un cane rispetto allo squalo. Questa è un'altra euristica, ok? Si chiama euristica della disponibilità. Le informazioni a noi più disponibili sono le informazioni con un impatto emotivo più forte. E questo ci devia dalla decisione razionale, ok? Altro esempio di euristica. Ora vi chiedo, vi ricordate cosa stavate facendo durante l'attacco alle torri gemelle? Federica dice sì, sì, Erika, sì, Ilaria. Provate a descriverlo. Era in ufficio? Marianna sì, Daniela no. Cos'è che stavate facendo? Il matrimonio, stavo preparando un esame con i miei colleghi ed è arrivata la notizia. Era mattina o pomeriggio? In ufficio, in riunione, era in ufficio, era a scuola, ho preso la notizia al mio ritorno. Pomeriggio, guardavo la tv, ok, basta. Va bene, ci credo. Allora, quindi tutti quanti voi vi ricordate esattamente quel momento lì, che è un momento che è successo vent'anni fa. Se adesso vi chiedo cosa stavate facendo venerdì scorso, rispondetemi con la stessa velocità che mi avete risposto. vacanza, va bene, non vale. No, Ilaria, boh, Erika, apprezzo, Stefano no, Gianluca non lo so, non mi ricordo, non ricordo, ok. Non con la stessa velocità. Ok, allora, cos'è che ci dice questa cosa qui? Ci dice esattamente quello che dicevamo prima. Le informazioni a noi più disponibili sono le informazioni con maggiore impatto emotivo, ok? E così decidiamo, così prendiamo le decisioni, anche facendoci influenzare delle informazioni a noi più disponibili. È il motivo per cui questa cosa qui ha fatto sì che tutti non prendessero più gli aerei. Nel risultato sono aumentati gli incidenti in macchina, ok? Per cui, quanta emotività, quanta irrazionalità c'è nelle nostre decisioni? Stiamo iniziando a capire che in realtà qualcosina non funziona perfettamente. Ma questo non vuol dire che dobbiamo preoccuparci. Essere emotivi è fondamentale, non avere emozioni è invece un problema. Però dobbiamo esserne consapevoli. Quando decidiamo per la nostra azienda o quando decidiamo per noi stessi? Quindi, emozioni. Quanto pesano le emozioni? Ve lo chiedo, quanto pesano le emozioni? Fatto 100. Una decisione? Moltissimo. Datemi una percentuale. 70, 50, 40, 30, 90. Ok, 80, 60, 90, 70, 70, 80, 80, 90. Ok, 60. Allora, la risposta verrà dopo. Adesso facciamo un passaggio indietro per arrivare a capire quanto pesa, perché pesa così tanto l'emozione. Allora, questo è un modo molto chiaro e scientifico di capire quanto pesa l'emozione. Quello che vedete qua, ve lo spiego, è una dimostrazione scientifica di come avviene la nostra decodifica delle informazioni. A livello neuroscientifico, quindi a livello proprio di funzionalità del nostro cervello, del nostro organo decisore, perché lui è deciso. Le neuroscienze cosa ci dicono? Ci dicono che qualsiasi sia lo stimolo che viene, diciamo così, catturato dai nostri cinque sensi, qualsiasi sia lo stimolo, questo viene processato prima a livello di via bassa, la definiscono, che sostanzialmente è la parte del cervello più antica che si è sviluppata per prima a livello evolutivo. È la parte del cervello che ancora oggi funziona per sopravvivenza, per istinto di sopravvivenza. Quindi è la parte del cervello che si basa moltissimo sulla dimensione emotiva. Solo successivamente le neuroscienze ci dicono che si attiva poi la parte più esterna, la parte più recente relativamente, parliamo ovviamente di dimensioni relative, che è la parte più deputata all'elaborazione dell'informazione razionale. È la parte, è il momento in cui l'informazione emotiva, l'elemento emotivo che abbiamo decodificato, che abbiamo elaborato, viene decodificato a livello cognitivo, viene etichettato in qualche modo a livello cognitivo. L'esempio pratico cos'è? State camminando, state facendo una passeggiata per i boschi ed ad un certo punto davanti a voi passa un serpente. Cos'è che fate? Erika dice indietreggio. E poi Erika cosa fai? Erika dice indietreggio. Scappo, mi fermo, tanto scappo a lui. Ok. Solitamente salto. Ok, va bene, di fatto prendete una decisione, no? Quanto tempo ci mettete, scappo, quanto tempo ci mettete per prendere questa decisione? Pochissimo, no? Successivamente cos'è che fate? Una volta che vi siete messi in salvo, cos'è che fate? Dite, ho fatto bene a mettermi in salvo, ho fatto bene a evitare quella situazione di pericolo. Quindi, cos'è che fate? Cos'è successo? È successo che prima si è attivata la parte più profonda del vostro cervello, la parte istintiva, la parte emotiva. Ho fatto un passo indietro. E solo successivamente si è attivata la parte più razionale, la parte più esterna del cervello, che è quella che etichetta quella situazione come pericolo, ho fatto bene a mettermi in salvo. Ok? Questa cosa qua funziona in tutte le nostre decisioni. Ok? Quando dovete, aprite una mail lunga, una pagina di testo, Qual è la prima reazione? La prima reazione è, oddio, adesso non la leggo, faccio finta di non averla vista, la sposto nelle mail da leggere e poi la leggerò. Quindi prima c'è l'emozione e poi c'è la razionalizzazione. Il problema qual è? Il problema è che questo processo dura millisecondi. È per questo che non ce ne rendiamo conto ed è per questo che pensiamo di essere razionali. È perché questi processi avvengono in modo inconsapevole, incosciente, non ne siamo consci, non ne siamo consapevoli. Ma in realtà funzioniamo in questo modo. Per rispondere alla vostra domanda di prima, quanto pesa l'emozione, ce lo dice Kahneman, che vince un premio Nobel per l'economia, lui dice che fino al 95 per questa cosa, lui dice che fino al 95 per cento delle nostre decisioni avvengono su spinta emotiva. Lui lo chiama sistema 1, system 1. Cos'è il system 1? È il sistema basato sulle dimensioni di intuitività, di controllo involontario, quindi inconsapevolezza, di dimensioni in cui lo sforzo cognitivo è il minore possibile, l'energia impiegata per decidere è il minore possibile. È la situazione che si basa sulla velocità, sul riflesso, è qualcosa di innato. Il 5 per cento lo dice invece è razionale, è basato sulla ragione, sull'impegno cognitivo, sull'effort, sulla concentrazione, sul volerlo. Effettivamente fare una cosa in modo razionale, in modo cognitivo. Però siamo all'interno di questa situazione, vedete quanto siamo sbilanciati sulla dimensione emotiva. Federica dice, ma poi sulle decisioni importanti aziendali, acquisti, con sistemi strategiche, la parte razionale non interviene a equilibrare. Federica dice, ma quando dobbiamo prendere una decisione molto importante, in azienda o per noi, la ragione non va ad equilibrare la dimensione emotiva. Sì, lo può fare, ma lo può anche non fare. Ce ne sono molti, ad esempio, anche in azienda. Dicevo prima, il decidere da solo o il decidere in gruppo? Dove, in che situazione vi sentite più confidenti nell'esporvi a rischio? Quando decidete da soli o quando decidete in una situazione di gruppo? Ok. Il gruppo. Ok, quando siamo in gruppo, ci sentiamo più, siamo più predisposti a dire, a prenderci un rischio. Perché? Perché in realtà non lo stiamo prendendo noi, lo sta prendendo il gruppo, no? La deresponsabilizzazione della decisione. È un esempio di come il modo in cui, la situazione in cui stiamo decidendo in azienda, per la nostra azienda, per la strategia della nostra azienda, possa in realtà banalmente da questa situazione essere influenzata appunto da questa decisione e portarci a essere più razionali o più emotivi, più a esporci magari di più a un rischio. Ok? Per cui in realtà anche nelle decisioni difficili in cui la situazione di problematicità percepita è elevata, c'è sempre una dimensione emotiva. E l'esercizio che dobbiamo fare, come azienda, come decisori, è sempre quello di dire, ma ferma un attimo, ricordiamoci che, quello che stiamo vedendo adesso, ricordiamoci che siamo in questa situazione qua. di inconsapevolezza, di peso emotivo, di automatismo, di stress magari, di poco tempo. L'esposizione al rischio è molto elevato. Per cui l'esercizio è sempre quello di mettere, di avere la consapevolezza di quanto possiamo essere esposti al rischio di essere emotivi e non di essere razionali in ogni nostra situazione. L'unico esercizio che possiamo fare è questo, quindi acquisire consapevolezza e cercare di spostarci di più sulla dimensione razionale. Andiamo a oltre e parliamo adesso di come funziona l'attenzione. L'attenzione funziona per, non vi faccio la rava e la fava di questa cosa qua, semplicemente vi dico che c'è un momento in cui si parla di sensazione e c'è un momento in cui si parla di percezione. La sensazione è il primo momento in cui il nostro organo visivo, parliamo molto di attenzione visiva perché è molto importante l'attenzione visiva, ma in generale, quindi anche l'udito è una forma di attenzione, ma concentriamoci su quella visiva. La sensazione cos'è? Il primo momento è il momento in cui il nostro occhio vede qualcosa, la luce fondamentalmente l'occhio vede. Il secondo momento, il secondo passaggio è quando il nostro occhio, la luce, il segnale luminoso, viene decodificato, viene, diciamo così, codificato in segnali elettrochimici che passano al cervello e che li decodifica. Quello è il momento in cui effettivamente quella cosa che il mio occhio sta vedendo viene percepita, quindi stiamo effettivamente vedendo quella cosa lì. La sensazione cos'è? È quando diciamo ho la sensazione di aver visto qualche cosa, ma non so bene che cosa. È proprio il primo momento. Solo successivamente si ha la percezione. Perché è importante parlare di attenzione visiva? L'attenzione visiva è questa cosa che vedete. Questi pallini e queste linee sono il risultato del tracciamento oculare che facciamo con una tecnologia che si chiama Eye Tracker, che permette proprio di capire una persona dove sta guardando. I pallini, che si chiamano fissazioni, è proprio il nome del nostro movimento oculare, i pallini si chiamano fissazioni e sono il momento in cui effettivamente il mio organo visivo e la mia mente sta vedendo quella cosa lì, quella cosa che sta dietro a quel pallino. Le linee che vedete tra un pallino e l'altro si chiamano saccadi e sono i momenti in cui il mio occhio in realtà è cieco, non vede quella cosa che sta dietro a quella linea. Soltanto una tecnologia o una macchina riesce a tracciare questo movimento che dura, pensate, dai 50 ai 100 millisecondi. Per cui il movimento è veramente molto veloce. Il nostro occhio è un organo eccezionale dal punto di vista di capacità di processare informazioni. Quindi dura veramente poco e per cui quella linea che vedete, quelle informazioni che vedete dietro a quella linea, rimangono fondamentalmente a livello di sensazione. Quindi c'è la sensazione di aver visto qualche cosa. Quindi leggo la domanda di Mariangela. Il tracciato del movimento vale a prescindere dall'immagine o ogni immagine porta un movimento proprio? Ogni immagine porta un movimento proprio. E adesso lo facciamo questo esercizio. Ogni immagine porta un movimento proprio. E vediamo come funziona questa cosa. Ok? Passaggio piccolo, passettino indietro. Perché parliamo di attenzione visiva e ricordatevelo quando dovete comunicare al consumatore, ma anche tra colleghi. Fino al 90% degli stimoli attentivi che arrivano al cervello o rigione della vista. Si dice che siamo animali visivi. Persone... Animali visivi. Siamo visually oriented. Quindi se capiamo questa cosa qua e ricordiamoci che prima siamo visivi e poi siamo verbali e poi siamo persone che leggono. Ok? Ci può essere molto utile. Facciamo questo esercizio. Mentre percori questa strada c'è la possibilità che una o più rocce di dimensioni diverse possano cadere dalle piste su uno o entrambi i lati. Di cosa stiamo parlando? Cos'è che stiamo dicendo? Cos'è che è questa cosa qua? Strada pericolosa. Pericolo sassi. Di stare attento quando avanzi, pericolo. Siamo sicuri? Siamo sicuri di averlo interpretato in modo corretto? No. Ok. Allora, questa cosa qua e questa cosa qua. Quale tra le due situazioni è più efficace? La seconda. Ok. Perché è più efficace secondo voi? Ve lo dico io. È più immediata. Ok. Poi? Votra essere più immediata? È visivo. Ok, Alberto? Codifica, immagine, colore, perché è più veloce ad essere interpretata. Ok. Quale tra i due segni di pericolo? Quale tra le due comunicazioni, tra i due modi di comunicare vi ricordereste di più? sì, la seconda. La seconda. Quale è più universale? È adatto anche a una persona straniera? La seconda. Ok. Allora, quindi comunicare per immagini, ricordiamocelo, rispetto al testo, è meglio perché è più immediato. un decimo di secondi per leggere quel cartello, 60 secondi per leggere l'equivalente in testo. Ci sono meno errori interpretativi, è chiaro a tutti questa cosa qua. È più facile da ricordare ed è quindi più efficace in generale. Tant'è vero che oggi si parla sempre più di visual marketing. Addirittura si parla di visual journalist, quindi giornalismo visivo. Il giornalismo oggi com'è che lo si fa? Con l'immagine, con sotto una riga di testo, è il modo in cui oggi il giornalismo viene fatto, addirittura. Per cui anche i giornalisti hanno capito che è meglio comunicare per immagini. Facciamo quest'altro esercizio. Vi chiedo di guardare questa immagine, ok? E vi chiedo, in rosso, sotto il quadrato rosso, e vi chiedo di prestare attenzione perché dura pochi secondi. Al mio 0 vedete l'immagine. 3, 2, 1, 0. Che cosa vi ricordate? Faro, 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 con casa, cielo, il faro, casa, con un mulino. Il mulino non c'era, Daniele. Il faro, il faro. Faro, cielo, casa. Che colori? Faro tutti, avete visto. Che colori? Azzurro, bianco, rosso, rosso. Bianco del faro, azzurro del cielo. Cielo e rosso. Allora, voi avete visto questo? E tutti vi ricordate il faro. Perché il faro lo ricordate tutti? È durato 200 millisecondi quella cosa lì. Perché il faro lo ricordate tutti? Perché è più visibile? E perché è più visibile? Perché dice l'aria centrale è per il colore, perché è al centro. Ok. Allora, il motivo è perché A è al centro, quindi ricordiamoci che tutto ciò che sta al centro è tutto ciò che è favorito ad essere visto per prima. Io inizio, mi è più semplice leggere una scena visiva partendo dal centro. Se sono davanti a un quadro inizio a leggere il centro del quadro e poi vado in giro. Vado in giro in funzione di che cosa? Vado in giro in funzione della salienza, si dice, degli elementi. Quindi, cos'è che stiamo dicendo? Il nostro cervello, la nostra vista meglio, elabora in pochi mille secondi tutto quello che è più saliente, tutto quello che è più capace di catturare la sua attenzione. E cos'è che è più saliente? È più saliente tutto ciò che sta al centro, l'abbiamo capito il motivo. È saliente tutto ciò che ha un contrasto, quindi il bianco dello spumeggiare del mare, il bianco del faro hanno contrasto rispetto al resto e per cui vengono visti. Ed è anche il colore. Il colore rosso è il colore, si dice, essere più saliente. Perché i cartelli stradali li fanno rosso e non li fanno blu, secondo voi? Perché il colore rosso tra tutti i colore? Perché le promozioni sono in rosso? Perché l'ambulanza è rossa? Rosso uguale attenzione, ma perché attenzione? Perché attira di più? Ok, ma perché attira di più? E perché è pericolo? Perché è il colore del sangue, dice Federica, è un altro legato al sangue. Esatto, il vero motivo è questo, il rosso è il colore del sangue, il rosso è quindi il colore del pericolo. Il nostro cervello va ad individuare tutto ciò che per lui può essere pericolo. Tutto ciò che è pericolo per lui è il rosso, è il contrasto perché dietro quel contrasto può esserci un predatore. È il volto. Perché è il volto? Perché io dal volto capisco che intenzione ha la persona che ho davanti. Quindi il nostro cervello stiamo dicendo che funziona ancora come funzionava milioni di anni fa. La nostra attenzione è stata impostata per permetterci la sopravvivenza e quindi va a cercare tutte le informazioni che per lui sono più importanti. le informazioni che sono per lui più importanti sono il contrasto, tutto ciò che sta al centro perché è una dimensione più funzionale a come si esplora una scena visiva, il colore o le immagini, i volti delle persone. Quindi, cos'è che stiamo dicendo per rispondere alla domanda di prima di... non ricordo il nome, perdonate. la scena visiva influenza il percorso decisionale. Sì, per cui state capendo che io per capire come la mia comunicazione funzionerà a livello visivo premettendo che abbiamo capito che siamo per 90% visivi, devo capirlo utilizzando sì delle competenze, delle conoscenze che stiamo condividendo adesso, ma utilizzando anche delle metodologie che permettono come vedevate fate prima di verificare il percorso visivo che succede, che caratterizza questa immagine o l'immagine della vostra comunicazione. Badate bene che le persone, i consumatori, soprattutto in contesti online, sui social in cui continuano a scrollare il tempo che la vostra comunicazione, il vostro ban o la vostra comunicazione ha per catturare l'attenzione di quel consumatore potenziale che vi potrebbe cliccare comprare il vostro servizio, lo capite bene che non dura più di un secondo. Per cui utilizzare immagini strategicamente scelte perché siano salienti, quindi perché siano capaci di catturare l'attenzione di quel consumatore è oggi veramente un esercizio non tanto di stile ma un esercizio funzionale all'efficacia della vostra promozione, della vostra comunicazione. Quindi stiamo iniziando a introdurre il concetto di attenzione selettiva. La nostra attenzione funziona per selezione, va a selezionare certe informazioni e tralascio delle altre. Proviamo a fare questo esercizio, è un video per cui spero che tutti quanti voi lo vediate. Vi chiedo di contare il numero di passaggi che fa la squadra vestita di bianco, ok? Quindi contate il numero di passaggi che fanno il giocatore vestiti di bianco. Adesso parte un video, dura 30 secondi, ok? Pronti? Poi mi dite il numero di passaggi. di passaggi. numero 8, 13, 15, 16, 12, 15, 13, 21, chi offre di più? 11, ho perso il conto, 7, ok? Cos'è? Avete visto qualcosa di strano? Mariangelo dice che è stato avvistato uno scimmione, un orango, qualcuno lo connota meglio. Sì, mi confondevo, vedevo meglio il nero. Chi ha visto lo scimmione? no, io, 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 tre, no, sei visto, no, no, un uomo peloso era una scimmia. Allora, lo rivediamo. no, no. Count how many times the players wearing white pass the ball. on the scimmia? Yeah. No. 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 L'avete vista tutti la scimmia? Adesso tutti l'avete visto, no? Avete visto qualcos'altro di strano? In realtà è cambiato anche il colore della tenda, che da arancione è diventata rossa, ed è successo che un giocatore della squadra nera è uscita dallo schermo. Ve lo faccio rivedere velocemente il momento in cui cambia. Allora, vedete che la tenda è arancione, adesso diventerà troppo rossa, diventerà arancione, e un giocatore della squadra nera, che sta sulla destra, uscirà dallo schermo. Lo scimmione, il giocatore è uscito e la tenda che è diventata arancione. Ok? Allora, questo è come funziona la nostra attenzione. Quindi abbiamo visto qua l'attenzione di tipo bottom up, quindi non influenzata dal tipo di obiettivo che abbiamo. Quindi cosa ci viene proposto? Cattura l'attenzione in un certo modo che abbiamo visto. Se invece ho un obiettivo di contare in questo caso i passaggi, cos'è che succede? Che voi vi concentrate sulla palla e non vedete tra i cambiamenti che sono successi. Pensate ad esempio in ambito di sicurezza sul lavoro, cosa vuol dire essere consapevoli di come funziona la nostra attenzione? È fondamentale quindi in generale anche capire che appunto capire come funziona l'attenzione visiva è fondamentale. Perché se in qualche modo posso capirlo, posso capire come funzionerà la mia comunicazione, in qualche modo posso anche prevedere come la mia comunicazione comunicherà. È esattamente questa cosa qua. Condividete che avete letto seguendo questo schema. Quindi per dire questo, tutto quello che abbiamo visto ci serve per capire cosa? Ci serve per capire che ogni volta che comunichiamo dobbiamo ricordarci di come funziona il nostro decisore. Queste sono alcune pillole di come funzioniamo, di come funzioniamo noi, ma anche di come funziona il nostro destinatario, il nostro consumatore. E quindi possiamo utilizzare questa consapevolezza per comunicare meglio. È quello che ha fatto Tim. Secondo voi perché quel ballerino punta là sotto, guarda là sotto? Dov'è che secondo voi cadrà la vostra attenzione? L'hanno messo lì a caso in quel modo. Vedete? Esatto. È bello avere tutto. Quindi quello è proprio un esempio di come Tim ha utilizzato questa consapevolezza per portare attenzione dove a lei è più importante raccogliere attenzione. In questo caso è questo claim. È bello avere tutto. Si chiama proprio indicatore direzionale. Se io indico qualche cosa, anche voi guarderete dove io sto indicando. Il volto è un indicatore direzionale, come in questo caso. In questo caso, semplicemente cambiando lo sguardo di questo testimonio su questo spazio pubblicitario, posso portare l'attenzione dal suo volto. In questo caso, vedete la macchia rossa e quanta attenzione è stata raccolta in media. al prodotto che questa persona invece sta guardando, questa testimonia sta guardando, semplicemente cambiando il suo sguardo. Questo si chiama proprio indicatore direzionale. Ce ne sono moltissimi, ad esempio, la freccia, lo sguardo, la mano che indica. Ci sono molti modi di portare in qualche modo l'attenzione dove per me è importante. Quindi, tutta questa premessa è fondamentale perché ci permette di arrivare a capire che io, azienda, non posso chiedere a un consumatore cosa pensi del mio prodotto, del mio servizio. Perché questo consumatore cosa che mi dirà? Mi dirà quello che pensa, mi dirà quello che pensa di pensare, o magari mi dice una cosa semplicemente per fare bella figura. Noi diciamo sempre, diceva un pubblicitario, Ogilvy, dice, diceva già negli anni 90, Il problema delle ricerche di mercato è qual è? Le persone non pensano ciò che sentono, non dicono ciò che pensano e soprattutto non fanno ciò che dicono. È esattamente questo il motivo per cui molte delle decisioni di mercato, dei prodotti lanciati sul mercato, vengono ritirati nel primo anno. 21.000 nuovi marchi ogni anno, il 90% dura un anno. Per cui siamo in questa situazione, siamo nella situazione in cui se io chiedo cosa pensi di questi prodotti, di questi prodotti dicevano che non li avrebbero mai comprati, le ricerche di mercato. Oggi tutti sappiamo chi sono queste aziende. Così come queste aziende, questi prodotti risultavano essere perfetti della ricerca di mercato, in realtà sono stato un flop. Quindi è questo il motivo per cui si applicano le neuroscienze, il neuromarketing alla ricerca di mercato, che non deve essere sostituita, non è che è arrivato il neuromarketing e è finita la ricerca di mercato tradizionale. No, la ricerca di mercato tradizionale serve per cogliere certe informazioni più razionali, il neuromarketing, le neuroscienze, l'economia comportamentale serve per cogliere tutte le altre dimensioni, più emotive, più inconsapevoli, più legate all'attenzione. E questo è il vero vantaggio. Quindi l'integrazione da un lato delle neuroscienze con il neuromarketing e dall'altro delle ricerche tradizionali. Così veramente da avere una visione completa a 360 gradi. Questi sono un po' di esempi di quelli che sono gli output che possiamo ottenere con il neuromarketing, per cui a sinistra vedete quei pallini che vedevate prima, è proprio il percorso visivo che fa questa persona su questo totem, mentre sta portando a termine un acquisto ad esempio. Quindi pensate io come, se produco il software di questa interfaccia, o se sono l'azienda che vende il prodotto su questa interfaccia, quanto è importante capire l'usabilità di questa interfaccia. In mezzo c'è la heatmap. Cos'è la heatmap? è la media di attenzione visiva che coglie questo sito internet, il packaging o qualsiasi situazione che voglio andare a testare. Più rossa è, maggiore attenzione c'è su quell'area. Quindi cos'è che posso fare? Posso capire dove posizionare la mia call to action, se il mio messaggio pubblicitario viene visto oppure no, se il mio sito internet, la mia pagina del sito internet viene retta tutta oppure vengono rette solo certe informazioni. Molte cose posso fare, poi le vediamo. Posso ovviamente andare anche a confrontare dei target differenti, per cui confrontare un target che magari con la tecnologia ci sa fare e un target che con la tecnologia invece ha meno confidenza, ma a cui devo comunque comunicare. Questo è un esempio di altra tecnologia che non fa altro che mappare il volto della persona che sta davanti a una webcam e ci dice proprio il tipo di emozione che questa persona sta provando a livello di paura, di rabbia, di tristezza, di disgusto in questo caso, che ha visto il telefilm Like to Me, è esattamente questa cosa qua. L'inventore di questo software, meccanismo, è proprio Paul Ekman, che è una persona, uno scienziato, che fa proprio questo di mestiere, quindi va ad analizzare le espressioni del volto della persona per capire il tipo di emozione che questa persona sta provando. Ok, e questo è quello che si può fare su una pubblicità, ad esempio. Quindi sulla pubblicità io posso capire il tipo di emozione che questa pubblicità con quel segnale di sotto sta generando, così come anche la performance visiva, quei quadrati che vedevate prima sono proprio la performance visiva delle informazioni, eccoli qua, che per me sono più importanti. Quindi l'unione del dato visivo, che è fondamentale, con il dato emotivo, che è altrettanto fondamentale. E ormai l'abbiamo capito. Il sito internet, quindi sul sito internet posso, ripeto, verificare l'usabilità del mio sito internet, quindi capire quanto è semplice o difficile lato utente portare a termine a un determinato compito. Cos'è che diciamo sempre? Quando facciamo, quando siamo online, ci giochiamo tutto in queste tempistiche. Cosa sono secondo voi queste tempistiche? Allora, queste sono le tempistiche in cui, mediamente, un utente rimane sul vostro sito internet. Queste sono aggiornate al 2017, dati audio web 2017. Oggi siamo nel 2021, volutamente non abbiamo inseriti, perché già nel 2017 si stava un minuto e sei secondi sul vostro sito, oggi si sta molto meno. 10 secondi è il tempo medio in cui un utente decide se rimanere oppure abbandonare il vostro sito internet. Per cui, di fatto, cos'è che stiamo dicendo? Che abbiamo 10 secondi per tenere o perdere un utente. Cos'è che è alla base del tenere o perdere un utente? È il primo impatto. Il primo impatto che io ho quando vengo sul vostro sito internet deve essere positivo. A livello di immagine, quindi a livello proprio di interfaccia, ma anche a livello di esperienza utente, a livello di usabilità. Quindi se io vengo sul vostro sito internet, non ci vengo tanto perché voglio farmi un giro, ma ci verrò perché è un obiettivo, perché voglio comprare un prodotto, perché voglio comprare un servizio che voi state vendendo. Se non trovo il modo per capire cos'è questo prodotto, questo servizio e come comprarlo, il rischio è che quella persona in quei 10 secondi lo perdiamo. Il problema qual è? Che è grave ancora di più la cosa, è che in quella persona ormai quella situazione sarà etichettata con una dimensione negativa, e cosiddetta effettalone, per cui se la percezione è negativa, anche se poi andrò a modificare il mio sito internet, quel sito internet rimarrà etichettato come negativo e per cui io sul vostro sito internet non ci verrò più perché nel frattempo sarò andato sul sito del competito. Quindi, poi lo vedremo meglio nei percorsi a seguire. Cos'è che deve essere, lo vediamo molto in pillole, un sito internet cos'è che deve essere? Deve essere in primo luogo semplice. Lo diciamo sempre, ma vediamo sempre siti molto complicati. Le persone A non leggono, B vogliono trovare un'esperienza sul vostro sito che è diversa rispetto alle esperienze che trovano su altri siti. Oggi bisogna andare oltre, oggi tutti hanno un sito, oggi tutti comunicano allo stesso modo, la vera differenza la si fa quando comunichiamo in modo differente, in modo originale. Quindi semplicità cos'è che vuol dire? Vuol dire menù con poche voci, vuol dire utilizzare nomi, termini semplici che siano chiari a tutti e non solo a voi che magari siete dei tecnici, che magari quel sito l'avete fatto per cui sapete cosa vuol dire quella parola. A me, utente, quella parola può dire altre mille cose, quindi non la capisco. percorsi intuitivi, quindi percorsi semplici. C'è tutto un discorso da fare sull'uso del font. Esistono dei font più adatti alla comunicazione digitale o a contesti specifici e altri font adatti per altre situazioni. i colori. Il colore non si sceglie tanto perché piace a me quel colore, ma il colore si sceglie in funzione anche proprio della categoria in cui siamo o in funzione della mia immagine, del modo in cui voglio comunicare alla mia azienda. C'è proprio una psicologia dei colori. pochi, quindi psicologia dei colori, ma questo non vuol dire che dobbiamo fare il sito Arlecchino. Dobbiamo fare un sito con due, tre colori, non di più. Troppi colori, cosa che vanno a fare? Creano confusione. Queste sono, se volete andare a divertirvi, potete digitare siti peggiori e trovate anche queste situazioni qua. Per cui fare un sito vuol dire non farlo tanto perché lo devo fare, piuttosto non fatelo, ma lo faccio con un obiettivo. E l'obiettivo è proprio quello di dare un'immagine della vostra azienda che sia in linea con i vostri valori, che rispecchia i vostri valori e la vostra personalità. Gli sfondi, sfondi troppo creativi che non permettono di leggere, non funzionano, piuttosto se non sapete quello di utilizzare, utilizzate il bianco, che funziona benissimo se lo usate in modo corretto. Se dobbiamo utilizzare, vendere un prodotto, ricordiamoci sempre che ormai non c'è più niente da inventare, ormai quello che c'è da inventare l'hanno già inventato Amazon, Booking o siti simili in cui il processo decisionale di acquisto è stato molto ben definito e in tutti noi c'è molto chiaro come fare un acquisto. Per cui non inventiamoci strani modi di acquistare, semplicemente inventiamoci quello sì un'esperienza, un'interfaccia utente che sia originale. Ma i percorsi, soprattutto sulla vendita, ormai sono definiti. Quindi deve essere come? Bello, unico, originale, quindi attenzione, molta attenzione all'immagine, proprio all'immagine che stiamo comunicando, ma al contempo deve essere usabile, quindi deve essere semplice da utilizzare. L'esperienza utente è oggi diventata una metrica che Google da giugno utilizza per posizionare il vostro sito. Siti poco usabili vengono declassificati, diciamo così, a livello di posizionamento, oltre che a influenzare negativamente e poi tutte le conversioni, eccetera. Il testo, le persone non leggono, diciamo prima, se io faccio una pagina di testo fitta in questo modo, quello che ottengo, ve lo dico già, è questo, ok? Per cui senza necessità di andare a testarlo, le persone non leggono, leggono soltanto le prime informazioni, le prime parole, dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra. Perché? Perché questo è il nostro modo di leggere. E si viene proprio a creare questo pattern di lettura che viene definito pattern ad F, che è proprio il rispecchiare esattamente quello che succede a livello visivo quando comunico con troppo test. Soprattutto se siamo un'azienda di servizi in cui la dimensione personale, la persona con chi mi andrò a interfacciare è una persona o è un e-commerce, è molto importante che ci mettiate il volto. Tanto di fatto quando verrò da voi in qualche modo parlerò con voi per cui preferisco magari anche avere prima un'idea di chi incontrerò e ad ogni modo utilizzare i volti mi permette proprio di capire anche la personalità delle persone di quell'azienda e quindi di quell'azienda in generale. Per cui noi diciamo sempre metteteci il volto, il volto funziona molto bene. Si possono questo, queste cose che stanno dicendo funzionano non soltanto online, cioè non è un decalogo di cosa fare online e di cosa non fare altrove. Il movimento, il nostro occhio è attirato a tutto ciò che è movimento. Immagini che comunicano un movimento sono molto più efficaci rispetto a immagini statiche. L'immagine sulla vostra sinistra è molto più efficace per comunicare che quella bici è adatta al ciclista che vuole avere una performance magari più veloce rispetto a un'altra o comunque è molto più efficace in generale comunicare con una scena che trasmetta la sensazione di movimento. L'uso del prodotto c'è tutta una dimensione di neuroni di proprio fisiologica di come funziona il nostro cervello. Quando io vedo questa persona che sta bevendo questa Coca-Cola fresca immediatamente anche nel mio cervello si attivano esattamente gli stessi neuroni che questa persona attiva in quel momento. Si chiama proprio neuroni specchi per cui questo mi porta a vivere quell'esperienza e quindi a immaginare quell'esperienza e quindi semplifica poi il processo di acquisto. L'uso di tutti i sensi qua Coca-Cola non ha niente da insegnare Coca-Cola va a utilizzare queste immagini che permettono proprio di comunicare attraverso tutti i sensi là sta comunicando il rumore del tappo il rumore della linguetta della lattina che si apre e che escono le bollicine la pressione della bibita che è contenuta il rumore delle bollicine quindi sta comunicando utilizzando il senso visivo ma al contempo sta utilizzando anche altri sensi il senso dell'udito più siamo in grado di generare un'esperienza che sia capace di cogliere di stimolare tutti i sensi più quell'esperienza sarà impattante coinvolgente ed è questo il nostro obiettivo il nostro obiettivo è quello di generare esperienze il più possibile mi verrebbe da dire esperienziali quindi il più possibile capace di attivare altri sensi in modo ovviamente sincrono in modo come dire che tutti i sensi vadano nella stessa direzione nel far percepire in modo univoco quell'esperienza lì ci stiamo avviando la conclusione così lasciamo dieci minuti di domande cosa vuol dire analizzare un sito internet analizzare un sito internet vuol dire capire ad esempio come funziona la mia home page quindi da quando da quando entro sul mio sito cosa succede mediamente dove l'attenzione mediamente va a posizionarsi questo è proprio un esempio di cosa questa pagina genera a livello di attenzione visiva quindi capiamo qual è l'area più vista l'area più vista in questo caso è la zona centrale questo è il percorso visivo di questa di questa persona avete proprio il suo percorso quindi dove questa persona sta guardando ve lo faccio rivedere ok quindi come legge questa questa parte di pagina quindi il menu se viene letto le immagini se vengono lette cosa vengono lette delle immagini le informazioni testuali eccetera eccetera questi sono molto brevemente alcuni piccoli risultati che possono essere colti quindi quindi la possibilità di cogliere dove su questa pagina la mia attenzione è maggiore ok quindi vedete come ad esempio questa pagina questo modo di comunicare secondo voi comunica in modo efficace oppure no ve lo dico io non comunica in modo efficace proprio perché proprio perché c'è troppo testo ci sono troppe informazioni e cos'è che succede succede che le persone leggono soltanto la parte in alto inizialmente poi piano piano se hanno proprio tanta voglia di leggerlo questo testo questa pagina lo andranno a leggere fino in fondo però in realtà ci ricordiamo che il tempo è molto limitato per cui questo è sicuramente un modo non efficace di comunicare possiamo arrivare quindi poi fino ad arrivare al packaging quindi possiamo simulare ad esempio in questo caso l'acquisto di un prodotto e verificare poi cosa succede a livello di attenzione sul packaging quindi una volta che hai comprato il prodotto ti arriva a casa il prodotto come interpreti le informazioni ad esempio che vengono veicolate sul packaging che oggi è molto importante utilizzare in modo mi verrebbe a dire saggio soprattutto se siamo in grande distribuzione quindi qua possiamo proprio capire dove le persone leggono o non leggono le informazioni su questo packaging così come possiamo capire quanto il mio modo di comunicare attraverso questo packaging va a comunicare naturalezza o autenticità ad esempio se questi sono i miei valori aziendali o di prodotto e la cosa interessante che posso fare è posso andare a confrontare ovviamente anche i competitor e capire come il mio consumatore quando deve comprare una farina o un prodotto simile decodifica legge cerca le informazioni sul packaging per decidere quale packaging quale prodotto scusate comprare oppure quale non comprare quindi direi che possiamo fermarci direi che abbiamo visto un bel po' di di nozioni di informazioni e tolgo la condivisione ok e quindi se dalla regia possiamo iniziare con le domande direi ok ancora invitavo insomma un po' tutti a approfittare diciamo di questo momento dopo questa bellissima carrellata che ci hai fatto insomma che ci ha portati un pochino a fare tutta una riflessione una connessione è chiaro che poi le cose che ti vengono in mente sono tante io per esempio riflettevo sul fatto che tutto tutto questo fra strumenti ragionamenti e metodo insomma e tutto ciò di cui noi tutti quanti dovremmo dovremmo attrezzarci per fare previsioni in realtà e poi l'altra riflessione che mi veniva da considerazione facendo che ho fatto ascoltandoti è che comunque rispetto al metodo è importantissimo applicarsi perché poi questo è un metodo che cioè sono strumenti dati metodologici cioè che una volta che abbiamo acquisiti come metodo in realtà ci consentono di continuare a parametrare a misurare il mercato e in un momento in cui ci siamo resi conto che il mercato si diceva ok fai una previsione di mercato poi ragioni sulla strategia del tuo prodotto del tuo servizio eccetera eccetera però ormai il mercato è talmente veloce come cambiamento che c'è più pur è chiaro che strutturarci a livello di metodo ci può aiutare ad affrontare il continuo cambiamento perché altrimenti è una rincorsa cioè una corsa non ce lo possiamo più permettere non ce lo possiamo più permettere perché nel momento in cui hai finito di misurare parametrare prevedere eccetera eccetera poi intervengono dei cambiamenti in maniera veloce tu devi altrettanto velocemente rivedere parametrare rivedere tutto quello che hai fatto e quindi penso di dimmi se sbaglio cioè istintivamente mi viene da dire è importante acquisire il metodo capire quali sono gli strumenti che bisogna proprio portare a sistema nella propria organizzazione del lavoro per strutturare tutto questo perché più ci strutturiamo e più siamo in grado di adeguarci velocemente a tutte le variabili diciamo che intervengono vorrei condividere questo anche un pochino con tutti quanti insomma con tutto il pubblico che abbiamo perché mi piacerebbe sapere anche da loro che cosa hanno percepito nel frattempo in cui nascono le riflessioni risponderei alla domanda di Federica che ci ha chiesto qual è il budget per un progetto tipo quello realizzato da Derma Locatelli allora il budget dipende da tantissimi fattori quindi all'interno di Comunex ci sono competenze che sono adatte alla micro e alla grande azienda e quindi possiamo strutturare dei progetti efficaci che rispondano a qualsiasi tipo di budget quello che suggeriamo di non fare è quello di pensare che questo tipo di attività non richiedano del budget quindi che le risorse necessarie per realizzare questi progetti siano poche perché facendo così rischiamo veramente di sprecarle piuttosto cerchiamo di aiutare le aziende a trovare dei finanziamenti che ci permettano di realizzare un lavoro con tutti i crismi di realizzare un lavoro fatto bene che permetta poi di ottenere dei risultati finanziamenti che possono arrivare tra l'altro anche dalla Camera di Commercio che ci permettono di lavorare in sintonia con bandi disponibili per le micro le piccole le medie aziende e che riescono a seguire il progetto dall'inizio alla fine quindi partendo dalla costruzione della base su cui realizzare la strategia con il laboratorio di marketing per poi andare a costruire il piano con le competenze delle aziende come abbiamo visto prima quindi non posso appunto arrivare a dire qual è il budget ma posso dire che ci sono competenze e strumenti per qualsiasi tipo di azienda per fare un bel lavoro per arrivare a costruire dal banale sito fino a una strategia di comunicazione efficace sì poi ci sarà l'occasione di entrare proprio nel merito cioè anche per questo abbiamo perché al di là dei budget è importante il percorso che voi fate di analisi dei vostri bisogni in funzione del mercato che avete della tipologia di prodotti e di servizi che erogate quindi per questo abbiamo strutturato anche questa serie di incontri per entrare un pochino più nel merito e riuscire a fare dei confronti un pochino più specifici che siano più di orientamento come dicevo all'inizio rispetto alle scelte che poi uno deve fare quindi vi invito veramente a partecipare iscrivetevi agli incontri di laboratorio perché poi gli incontri di laboratorio come diceva Max sono proprio di orientamento scendiamo nello specifico andiamo a vedere riflettiamo insieme in modo che voi possiate fare delle scelte più diciamo oculate rispetto a bisogni veri che avete c'è qualche domanda forse ok poi rispetto diciamo alle iniziative camerale voi vi state sempre informati attraverso newsletter sito camerale perché pubblichiamo continuamente tutte le le novità in merito ai finanziamenti insomma quindi vi state informati sicuramente però ripeto secondo me è importante entrare nel merito perché prima bisogna fare l'analisi delle proprie esigenze dei propri bisogni e poi si vanno a cercare le risorse adatte che magari non sono solo quelle camerali ma si possono recuperare anche su altre iniziative che magari possono essere regionali nazionali e quindi l'importante è capire di che cosa abbiamo bisogno e su che cosa intendiamo poi sviluppare investire e applicare bisogna fare il percorso non partendo dai bandi ma partendo dai bisogni in modo che appena poi arriva il bando giusto l'iniziativa giusta si applica a quella iniziativa va bene sono le 11 e 31 a questo punto vi aspettiamo agli incontri di gruppo ringrazio tutti quanti ringrazio Andrea ringrazio Max per questo interessante insomma percorso e Max e Andrea li ritroverete appunto negli incontri di gruppo scusate la mia telecamera spenta però purtroppo mi cadeva continuamente la linea e quindi ho dovuto scegliere se restare online o tenere la telecamera accesa quindi grazie a tutti e insomma ci rivediamo ai prossimi incontri e mi raccomando speriamo di rivedervi negli incontri più specifici perché sarà anche interessante per noi capire da voi quali sono i vostri proprio specifici bisogni il momento di ascolto è interessantissimo è un confronto in cui poi si cercano risposte e soluzioni anche va bene grazie a tutti grazie grazie Tina grazie grazie a tutti voi grazie anche per la partecipazione grazie a tutti grazie a tutti